buongiorno e ben ritrovati oggi un dolce tipico della cucina italiana le pesche dolci altro non sono che due grossi biscotti di frolla morbida scavati riempiti di creme e poi passati nell'al kermes e nello zucchero nell'aspetto ricordano proprio le pesche e il sapore è qualcosa di vero di unico inizio dalla preparazione della crema perché dovrà raffreddarsi bene prima di essere utilizzata quindi in una ciotola rompo due uova aggiungo 150 grammi di zucchero 50 grammi di farina e inizio a mescolare qui ho 400 ml di latte ne aggiungo soltanto un po per far sciogliere bene questi ingredienti e il resto lo aggiungerò dopo metto tutto in una pentola aggiungo anche il restante latte una bustina di vanillina per profumare e porto il composto sul fuoco per farlo cuocere e addensare e attendo che giunga a bollore mescolando di tanto in tanto la crema inizia a bollire da questo momento è importante non smettere mai di mescolare tenere il fuoco basso e nel giro di pochi minuti si addenserà però è importante lasciarla cuocere almeno cinque minuti ecco la crema si sta addensando ancora un paio di minuti e questa la possiamo spegnere e togliere ora che la crema è ancora molto calda la divido in due contenitori metà di qua metà di qua una la copro subito con un foglio di pellicola a contatto così eviterà di indurirsi in superficie e nell'altra metto 80 grammi di cioccolato fondente che col calore si dovrà sciogliere e anche questa la copro con la pellicola e la lascio raffreddare ciao nel frattempo è arrivata ad aiutarci anche martina e insieme prepareremo la parte proprio biscottosa delle pesche martina a te piace cucinare cosa vuoi cucinare allora uova le uova allora iniziamo col burro e lo zucchero dopo mettiamo le uova alla mettiamo in una ciotola 80 grammi di burro si è raffreddato dai aiutami l'abbiamo fatto un po sciogliere e aggiungiamo al burro 100 grammi di zucchero aggiungi lo zucchero e poi mescoli brava quello lo zucchero tutto insieme possiamo mettere subito anche una bustina di vanillina brava strappa la bustina bravissimo ce n'è ancora un po tutto e ora puoi mescolare abbiamo ottenuto questo bel composto ora possiamo aggiungere due uova bianetta brava tutta da sola il gusso qui bravissimo brava il gusso sempre qui e ora puoi mescolare ora mescolare ti aiuto un po mescolare se vuoi aggiungermi un pizzico di sale un pizzico no un pizzico come un pizzico brava perfetto e ora possiamo aggiungere la farina sono 300 grammi dai mettila tutta metti la farina io mescolo aiutati con due mani brava mentre tu mescoli io metto alla mettilo tu dobbiamo mettere 8 grammi di lievito mezza bustina no non hai preso nulla ancora aspetta ancora un po poi vado a pesare la bustina e ti dico se va bene comunque dovrebbero essere due cucchiaini di lievito perfetto vai ora che abbiamo raccolto tutta la farina sai cosa dobbiamo fare una cosa bella divertente mettiamo un po di farina qua poca poca facciamo col pacco tanto è finita e mettiamo tutto l'impasto qui sopra e lo impastiamo con le mani vai con le mani io mi farino un po le mani e ti aiuto guardi com'è morbido com'è morbido bello morbido morbido è vero? sì così raccogliamo tutte queste briciole che ci sono qui sotto ancora farina sulle mani guarda va bene già così facciamo vedere guarda vedi come è bello morbido però non è appiccicoso adesso questo lo facciamo riposare un pochino ascolta ora questo lo lasciamo riposare un po' mentre si riposa dopo lo utilizziamo per fare le pezzi mentre si riposa noi laviamo le mani e andiamo a spendere i panni va bene va bene mi passi le mollettine questo lo lasciamo qui a riposare e ci vediamo? a domani no domani fra un po' fra un po' fra un po' andiamo dai facciamo la parte 2? sì prendiamo un po' del nostro impasto ci infariniamo le mani ne prendiamo un pochino guarda così le prime le pesiamo così ci regoliamo facciamo circa 25 grammi troppo grande un pochino più piccola ecco così una pallina così con le manine guarda quanto è grande così aspetta e la appoggiamo sulla teglia ecco quindi anche se non avete una bilancia che pesa i grammi però regolatevi una pallina grande così e anche questa nella teglia un po' distanziate perché poi con il lievito cresceranno brava anche Martina ha messo la sua pallina qui così bravissima brava allora divideremo l'impasto in due teglie questo nel frattempo l'abbiamo riempita la mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti e mentre cuociano queste continuiamo a fare le palline con questo impasto che c'è rimasto questa intanto è in forno hai fatto la pallina? brava dai ne sono rimaste poche quante ne sono rimaste? contale una due tre quattro quattro ne devi fare ancora ed eccole una qui e l'altra qui facciamo vedere come sono queste ancora calde calde ora le dobbiamo far raffreddare bene e poi le scaveremo riempiremo di crema e termineremo di decorarle sì come siamo state? belli sono belle sono belle? sei stata molto brava brava così poi si mettono bravissima però dobbiamo aspettare che si raffreddano le vogliamo contare così diciamo quante ne sono venute queste sono due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci cinque 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 ne mancava una per fare cinque cinque vabbè vuol dire che una la mangeremo così sì fate tre ora facciamo la parte tre di questa ricetta sì i biscottoni si sono ben raffreddati li abbiamo messi tutti insieme sulla teglia ora dobbiamo un pochino svuotarle perché poi dobbiamo riempirle con la crema quindi prendiamo una metà ti faccio vedere poi lo fai tu ne faccio uno io guarda ci mettiamo qui su un piatto dobbiamo togliere un po' di impasto scavare un pochino le nostre pezze i biscotti scavare così va già bene guarda facciamo un buchino ancora una così le appoggiamo sul tagliere molto brava siamo arrivati all'ultima si è rotta stringi forte la riattacchiamo poi con la crema la riattacchiamo capito? hai capito? mh abbiamo fatto il buchino a tutte a tutti i biscotti che saranno la metà di ogni pesca abbiamo ripreso la crema qui abbiamo quella al cioccolato e qui la classica crema pasticcera adesso cosa molto importante prendiamo esatto metà riempiamo con un cucchiaino di crema pasticcera vuole così poi un'altra metà con la crema al cioccolato brava poi cosa facciamo? le attacchiamo bravissima così abbiamo messo pure troppa crema mettiamo qua alla prossima mettiamo meno crema allora un cucchiaino di crema qui poi un cucchiaino di crema al cioccolato qua così e poi eccola qui uniamo brava ecco ora è meglio e la appoggiamo qua brava crema bianca oh poi poi ne prendiamo un altro per riempire le pesche com'è? è buona aspetta non lo rimettere lì chiudi quella pesca brava prendiamo un altro cucchiaino dai mettila qui bella sono rimaste le ultime due chiudiamola chiudiamola ora puoi leccare si eccola eccole qui eccole qui tutte le nostre pesche accoppiate ma non abbiamo mica finito si dobbiamo fare ancora delle cose si che colore sono le pesche belli le pesche sono delicious ma che colore sono e ora l'ultima cosa che dobbiamo fare è farle diventare belle rosa rosse che è il colore delle pesche solitamente queste pesche si bagnano nell'alchermes e io ho messo circa mezzo bicchiere d'alchermes in questa ciotolina però siccome ai bambini non piace l'alcol e poi i bambini non devono bere l'alcol abbiamo preparato per Martina una bagna analcolica a base di acqua zucchero e un po' di colorante arancione le tue le bagneremo qua poi male che va se non sembreranno pesche sembreranno albicocche no aspetta guarda ti faccio vedere quindi prendiamo una pesca prendiamo una pesca le sposto un attimo devi far fare alla pesca il bagnetto te ne faccio prima una io guarda il bagnetto veloce veloce da una parte dall'altra così e poi ti passano nello zucchero così così ora ne facciamo una con l'alchermes aspetta bagnetto veloce veloce così zucchero su tutti i lati e mettiamo anche queste qua hai capito? sì ora tocca a te brava nel liquido arancione poi hai lo zucchero pulito qua veloce veloce vai ed ecco pronte tutte le nostre pesche devo dire che sono molto belle anche quelle arancioni ora l'ultima cosa che dobbiamo mettere è una fogliolina di menta qui sopra ogni pesca così sembrano ancora più vere e più belle brava metti le foglioline alle pesche e per oggi è tutto noi vi salutiamo e ci vediamo domani è lunedì lunedì sì domani è lunedì ciao 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 dai continuo a mettere le foglioline alle pesche bello e ora ne assaggiamo una divido a metà così vi faccio vedere l'interno eccola e assaggiamo buonissime a a a l'interno